Non c'è tempo, insisti, non c'è più tempo, poiché la parola è chiusa, gira vertiginosamente su se stessa, non si espande, non s'alza verso il cielo, non ha orizzonte o meta, somiglia a quei cristalli che pendono laggiù, tra le foglie, nel freddo, è una voce raggelata. Ma quello il cui cuore tu credevi in ascolto proprio quello è lui che da tempo ha chiuso il libro. Di altro non si parla, di altro non si spera che dal foglio esca se non questa nebbia di uomini afasici, incontri quotidiani, cronologie senza anima dentro la propria voluta, malinconica, inflessibile, dolorosa, ripetizione dell'esistere. E qui mi raggiungono i ricordi di compagni che allegri cantavano sul viale o sulle piazze, inni o melodie che i campi descrivevano cogliendone lo spirito o l'alfabeto delle nuvole o il movimento dei fiori. Ma dove sono? Non sulla spiaggia, non all'uscita, non alla partenza o all'approdo. E la loro ombra o l'eco di costoro dov'è? Mi interrogo. Nella domanda viva mi torco. Mi chiedo se questo esercizio discorde dello scriba, se questa distanza che flagella, se questa muta folla d'automi che Iliot chiamò impagliati, d'un tratto si rivolti, risorga nel corpo, nella parola, nella felice lettera del fiato. Scorre il fiume come la vita mobile, ne trascrisse il divino Kitz nella sua urna greca dove il tempo è armonioso ed eterno. E' notte. Ecco la pallida luna, la graziosa lampada degli scribi, bussola fedele perpetua. Ed ecco esplode l'aria tra i libri, il vento è tra gli scaffali, alza le pagine che sulla vita si versano con forza o con dolcezza e con fragore misterioso alla vita rimandano. E questa alla pagina.